Niccolotto Maseo e la sua poesia a una foglia. Tanto per ricominciare alcune notizie su Niccolotto Maseo che era nato a Sebenico in Dalmazia da una famiglia di origine veneta. La sua educazione fu rigorosamente cattolica di impronta umanistica. Stabilitosi a Milano nel 1824, collaborò a vari periodici, conobbe Manzoni e prese posizioni in favore del romanticismo. Ecco, quindi la frequenza con Manzoni, con i tanti intellettuali romantici della sfera milanese, lo colloca proprio nel cuore, nel centro del romanticismo italiano, che ha in Milano sicuramente uno dei centri fondamentali. Nel 1827 si trasferì a Firenze, proseguendovi la sua collaborazione con l'antologia di Viesseu e Capponi. Quindi, proprio in questo periodo, lui conobbe Leopardi, che andò a Firenze più o meno in quegli stessi anni, e con il quale, come abbiamo detto, non fu in buoni rapporti, anzi fu in pessimi rapporti. Quando per un articolo anti-austriaco l'antologia fu soppressa, andò in esilio in Francia. Tornato in Italia, grazie a un'amnistia, si stabilì a Venezia, pubblicò altri scritti. Arrestato nel 1847 perché sostenitore della libertà di stampa, fu liberato nei moti del marzo 1848 e ricoprì importanti incarichi nella Nuova Repubblica, opponendosi all'unione col Piemonte. A ritorno degli austriaci andò in esilio a Corfu, nel 1854 si stabilì a Torino, infine a Firenze. In questi anni, quasi cieco, continuò tuttavia a lavorare al dizionario della lingua italiana. Morì nel 1874. Ecco, vorrei evidenziare alcuni aspetti fondamentali che già emergono da questa biografia. Cioè, che ha partecipato direttamente al risorgimento, ai moti risorgimentali, soprattutto a quello del 48 a Venezia. Infatti, Nicolotto Maseo è tra i detenuti politici, insieme a Daniele Manin, che messi in libertà guidarono l'insurrezione e l'effimera Repubblica di San Marco. Perché, come abbiamo spiegato, poi quando ritornarono gli austriaci, ovviamente lui fu costretto a scappare. Per quanto riguarda le opere, abbiamo già parlato del Dizionario dei Sinonimi della lingua italiana. Il Dizionario dei Sinonimi era una delle sue prime opere. Il Dizionario della lingua italiana è una delle sue ultime. Ecco, questo evidentemente lo pone ancora una volta al fianco di Alessandro Manzoni, nel tentativo di elaborazione di una lingua italiana, di anche, come dire, ordinamento di questa lingua. attraverso questi dizionari, quindi, senz'altro. Poi, come vedremo oggi, ha scritto delle poesie. E poi, interessanti questi canti popolari, toscani, corsi, illirici e greci. Infatti, questi canti popolari costituiscono una delle testimonianze più significative del culto romantico per la poesia popolare. E poi, come dicevamo, un'altra cosa importante, il romanzo autobiografico Fede e Bellezza, con il quale si inserisce anche lui nel genere del romanzo risorgimentale. Questo è un romanzo, però, di attualità, non è un romanzo storico, no? E quindi, simile, abbastanza simile, alle confessioni di un italiano di Polito Nievo. Ma, evidentemente, con un'impronta, soprattutto religiosa, molto spiccata, questo romanzo Fede e Bellezza. Del quale, del resto, se volete, anche sul vostro libro c'è una spiegazione e ci sono addirittura dei brani tratti da questo romanzo, alla pagina G108. Noi, però, appuntiamo la nostra attenzione sulla poesia. Ecco, questo è proprio una, come dire, una slide su questo romanzo, sul romanzo Fede e Bellezza, sul quale abbiamo detto, però, più di tanto non ci soffermiamo. Quindi, Tomaseo è senz'altro un autore minore, ma ha qualcosa da insegnarci. Se pensiamo ai suoi aforismi, uno di questi aforismi è il seguente. Il riposo a voi sia non letargo, ma preparazione di nuove forze e pensieri. E, insomma, l'incarnazione dell'intellettuale romantico risorgimentale che decide di unire il pensiero all'azione, che decide di darsi da fare per l'unificazione d'Italia, per l'indipendenza. Vi ricordate soprattutto poi con la partecipazione ai moti del 48 a Venezia. Ma è arrivato il momento di leggere questa poesia, datata a 1855, quindi appartiene alla fase più tarda della produzione di Tomaseo, quando lui ormai è già in esilio. Fa una specie di dialogo con una foglia staccata dal ramo. E questa, come dire, quest'occasione gli dà adito comunque di riflettere su molte tematiche importanti. È chiaro, la tematica, il tema, la metafora della foglia che cade, è una metafora molto presente nella letteratura di tutti i tempi. L'aveva utilizzata Omero per primo, poi la ritroviamo in Leopardi. E infatti Tomaseo scrive questa poesia dopo una poesia di Leopardi, appunto Limitazione si chiama, in cui già Leopardi parlava di una foglia, no? Solo che Leopardi insiste sul fatto che cade questa foglia e non dà nessuna prospettiva di speranza o di salvezza. Invece Niccolò Tomaseo, che è un intellettuale profondamente cristiano, vede sì la caduta di questa foglia, ma la inserisce all'interno di un destino, un destino di salvezza, e all'interno di un quadro armonico, un'armonia dell'universo e del cosmo voluta da Dio. Quindi con una profonda differenza rispetto a Giacomo Leopardi. E poi, insomma, ovviamente troveremo questa immagine della foglia anche nella famosa poesia Fratelli di Giuseppe Ungaretti. Un'altra cosa importante che possiamo notare è che lui sceglie la terzina dantesca. Quindi, in un componimento che è comunque un po' nostalgico, riflessivo, intimo, intimistico, se volete, rende omaggio a Dante utilizzando il suo schema metrico della terzina dantesca. E' un'altra cosa importante da dire sugli aspetti metrici. Terzine incatenate, eccetera, ma con gli accenti sempre sulle medesime sedi. Cioè l'accento degli endecassillabi, di tutti gli endecassillabi della poesia, è sempre sulla quarta, sulla settima e sulla decima sillaba. Questo dà un tono, appunto, monotono che serve a sottolineare il carattere patetico ed elegiaco di questa poesia insieme alle svariate ripetizioni che adesso vedremo. Foglia che lieve alla brezza cadesti sotto i miei piedi con mite richiamo forse ti lagni per chi io ti calpesti. Foglia che la brezza ha fatto cadere dolcemente sotto i miei piedi. Con un mite richiamo forse ti lamenti per essere stata calpestata, dice Borlenghi. È bellissimo questo aggettivo mite, il mite richiamo, perché è delicatissimo e vivo. Mentre riviva sul tuo verde ramo, sul verde tuo ramo, passai sovente e di te non pensai. Mentre ero ancora sul ramo, io sono passato parecchie volte di qua, e non ho mai pensato a te. Morta ti penso e mi sento che t'amo. Ora che sei morta invece ti penso e sento di amarti. La morte, dicevamo, per Tommaseo, significa prendere parte al ciclo universale delle cose. Non è un tuffo nel nulla come nel caso di Giacomo Leopardi, ma tutto inserito all'interno di un quadro, di un destino buono. La vita addirittura, certe volte, è straneità e indifferenza. E la morte è buona per Niccolotto Masio come in generale nella letteratura cristiana, a partire addirittura dall'inizio della storia della letteratura italiana, l'abbiamo visto con San Francesco. Morta ti penso e mi sento che t'amo. Già in questi primi versi abbiamo assistito a parecchie ripetizioni. Per esempio, pensai e penso. Nel verso 5 e nel verso 6. Nel verso 6. Di te non pensai, morta ti penso. e mi sento che t'amo. Quindi, come vedete, tutta una struttura dialogica perché il poeta parla con la foglia. Tu pur, anche se suona la campanella, finiamo di parafrasarla. Tu pur con l'aure, con l'ombre, con i rai, venivi amica nell'anima mia. Anche con le aure, le aure sarebbero le brezze, le gradite manifestazioni della vita della natura, insieme con i raggi del sole, venivi amica, ti univi insomma alla mia anima. Con l'or d'amor indistinto tamai, insieme a loro, quindi insieme alle brezze, insieme all'ombra, alla luce e ai raggi, io ti amai indistintamente. È la comunione spirituale del poeta con tutte le cose e con tutta quanta la natura. Ecco qua gli ultimi versi. Conversa in loto e in polvere, opia per vite nuove il perpetuo concento seguiterai della prima armonia. Adesso trasformata in fango, loto e in polvere. Ecco, questo polvere è un evidente riferimento biblico. Infatti si dice nella Bibbia, no? Tu sei polvere, in polvere ritornerai. È evidente che la foglia è immagine della fragilità dell'uomo stesso che è mortale. Per vite nuove il perpetuo concento. Quindi continuerai attraverso nuove forme di vita il concerto, concerto, della prima armonia, cioè dell'armonia originaria, dell'armonia voluta da Dio. Come dice Finotti, l'impronta divina dell'universo si esprime nell'armonia cosmica e nel suo riflesso poetico. È io che viva in me stesso ti sento. Io, anch'io, che ti sento in un certo senso viva, nel senso che ha stabilito questo rapporto profondo con la foglia. Nicolò Tommaseo cadrò tra breve. Abbiamo detto quindi nel 55, già anziano, Nicolò Tommaseo, no? Cadrò tra breve, morirò anch'io tra poco, no? Ed è il mio corpo frale, della mia parte effimera, il mio corpo, la parte fragile caduca di me, al fiore, all'onda, all'elettrico, al vento, darò, darò quindi, darò il mio corpo al fiore, all'onda, all'energia, elettrico nel senso del fluido elettrico dell'atmosfera, attenzione che qui ovviamente non c'era ancora l'energia elettrica, al vento, poiché il corpo si dissolve per dar vita ad altri corpi, ma te, dei cieli nell'alto, sull'ale, reccherà grato lo spirito mio, e pura idea di sorriso immortale, sorriderai nel sorriso di Dio. Quali ripetizioni, le alliterazioni, si moltiplicano, cadrò tra breve, darò del mio frale, per esempio, all'iterazione in R, sorriso, sorriderai, sorriso, eccetera. Che cosa dice nell'ultima parte della poesia? Ma lo spirito mio, il mio spirito, grato, riconoscente, reccherà, porterà sull'ale, sulle ali, te, nell'alto dei cieli. Insomma, una volta morto, e lasciato il mio corpo agli altri elementi, il mio spirito ti porterà con sé, presso Dio, grato per il bene che gli hai fatto. è pura idea, tu, nella tua forma spirituale ormai, alla fine la foglia è pura idea, spirito, ti ritroverai in Dio, sorriderai nel sorriso di Dio.